e bentornati sul mio canale prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità proprio come quelle di questo video perché oggi vediamo le date di pagamento perché sono uscite delle nuove date da parte dell'ins per i pagamenti della segna unico eccetera 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 come avete visto nel titolo della copertina e quindi partiamo con la ricarica del reddito di cittadinanza che è praticamente in arrivo e sarà pagata direttamente da poste italiane intanto vi ricordo che a inizio mese quindi già da un po c'è stato un altro pagamento straordinario per chi ha ricevuto in ritardo l'accredito di aprile mentre invece per quanto riguarda il pagamento del reddito di cittadinanza di maggio arriverà a partire da venerdì 13 e i pagamenti di solito partono dalle ore 13 13 30 14 quindi luna 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 e mezza o le due quindi diciamo inutile andare magari la mattina perché rischiate di andare a fare un giro a vuoto e non trovate niente quindi io vi consiglio di andare magari dopo pranzo ecco comunque le ricariche andranno avanti anche nei giorni dopo perché le poste italiane come sempre hanno tempo fino all'ultimo giorno del mese per pagare tutti quanti e poi tra l'altro questo pagamento del reddito di cittadinanza spetta a chi ha richiesto per la prima volta il sussidio oppure chi lo ha rinnovato dopo i 18 mesi mentre per tutti quelli che non ricevono il reddito di cittadinanza venerdì 13 lo riceveranno poi ovviamente il 27 di maggio venerdì 27 di maggio perché sono i diciamo cosiddetti vecchi per settori o beneficiari andiamo avanti e vediamo il pagamento dell'assegno temporaneo di maggio ci sono delle novità l'inps ieri o l'altro ieri comunque in questi ultimi due giorni ha pubblicato delle nuove dati di pagamento per gli arretrati dell'assegno temporaneo sui figli vi ricordo che l'assegno temporaneo è il pagamento che era stato introdotto a luglio del 2021 quindi non confondiamolo con l'assegno unico sono due cose completamente diverse quindi il pagamento dell'assegno temporaneo di maggio ha iniziato a essere pagato da giovedì 12 maggio e riguarda una ricarica degli arretrati di novembre ovviamente poi altre date di pagamento potrebbero essere pubblicate anche nei prossimi giorni per chi attende ancora i pagamenti dei mesi passati e vi ricordo che appunto proprio legato a questo discorso delle date che potrebbero essere pubblicate nei prossimi giorni vi ricordo che se commentate qui sotto e ci fate sapere a tutti quanti ma è compreso le date che vedete potrebbero essere una cosa molto utile per tutti quanti quindi commentate qui sotto e fateci sapere eventuali altre date o comunque se avete dei dubbi o delle domande potete sempre scrivere qui sotto proseguiamo con la terza notizia che sarebbe il terzo pagamento di questo video e riguarda l'assegno unico di maggio nuove date finalmente ci sono le prime date del pagamento dell'assegno unico sui figli e vi ricordo comunque che non tutte le persone e famiglie lo riceveranno lo stesso giorno perché come vi ho già detto anche in altri video non esiste proprio un vero e proprio calendario che va bene un po per tutti quanti ecco e comunque il prossimo pagamento dell'assegno unico di maggio è previsto proprio per venerdì 13 quindi anche anche per questo come vi dicevo prima aspettatevi il pagamento dopo l'ora di pranzo quindi dall'una e mezza alle due da quella fascia di orario in avanti secondo me anche per questo inutile andare la mattina che rischiate solo di fare un giro vuoto poi tra l'altro l'importo dell'assegno unico non è uguale per tutti perché dipende dal numero dei figli che sono a carico e da tutte le maggiori maggiorazioni che vengono poi riconosciute e infine per adesso non ci sono ancora le date di pagamento dell'assegno unico sul reddito di cittadinanza anche per questo discorso qui della segno unico sul reddito di cittadinanza mi raccomando se iniziate a vedere delle date o chiamate l'inps al centralino telefonico e l'inps vi dice delle date prossime di pagamento mi raccomando commentate qui sotto al video e fateci sapere a tutti quanti quando vedete le prossime date basta che mi scrivete un messaggio con scritto proprio guarda guarda ho visto questa data l'inps mi ha dato questa data così ci sappiamo regolare tutti qua bene con questo è tutto ti ringrazio per avermi guardato se hai delle altre richieste di video o vuoi avere delle informazioni fammelo sapere qui sotto a questo video e come sempre ricordati di iscriverti al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarei sempre aggiornato su tutte le prossime novità ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui solo sul mio canale di youtube vi aspetto ciao grazie a tutti